Ciao ragazzi e benvenuti alla quarantesima pillola d'Inventor. Oggi farò un ripassino su quella che è l'analisi FEM facendo un piccolo esercizietto giusto per così anche ripassarlo, ho fatto una lezione molto complicata in passato, ma giusto per farvi vedere cosa si può fare e come è semplice anche fare una piccola analisi FEM. Si può fare analisi FEM anche abbastanza di pezzi complessi, farò anche una parte dove vi farò vedere come nel telaio si può usare l'AIFA che è una strumentazione con cui si può studiare i momenti, i tagli su un elemento come il telaio che è di per sé abbastanza complesso. Ok, allora partiamo. Innanzitutto creiamo un assieme standard in millimetri. Sarà un esercizio molto semplice come struttura. Andiamo a creare il nostro piccolo, il nostro primo elemento, poniamolo qui, andiamo a fare una barra, scusate ho sempre, facciamo da 50, una barra da 50 millimetri e qua passiamo a 200 millimetri, 50 millimetri. Ok, vediamo un attimo in gestione, strumenti, cambiamo qua le unità di misura e mettiamo i millimetri che ci piacciono molto di più. Ecco qua, estrudiamolo, facciamo una barra da 10 centimetri, mettiamo gli spigoli così è un po' più semplice ed ecco qua il nostro primo pezzo, direi che è un po' corto, andiamo a meno da 400 dai. Ok, usciamo da questa parte e creiamo la seconda parte. Applichiamola a caso, anche qua se faccio schizzo vedete che viene un asse lì, vabbè adesso non stiamo ad essere troppo perfetti, quindi semplicemente creiamo un piano in asse, come vedete perfettamente in asse e andiamo a fare uno schizzo. Mi proietto un paio di cose del pezzo precedente e quindi vado a farmi l'altro elemento. Mettiamo paralleli queste due, diamogli anche una certa dimensione, 50 mm, metri, diamogli un angolo tipicamente di 45 gradi, infine dobbiamo dare questa distanza, prendiamo di 100 mm, vediamo cosa salta fuori, ah ecco chiaramente, non aveva preso il vincolo dell'allineamento quindi andiamo a rafforzare questo allineamento. Torniamo qua e facciamo 200 mm, estrudiamo anche qua e facciamo una nostra bella barma, possiamo sempre tenere i 10 mm classici. Usciamo dal nostro stem ed ecco qua la nostra piccola trave con un piccolo supporto, la travola sbalzo con un supporto sotto. Adesso andiamo negli ambienti e premiamo su analisi e sollecitazione. Ci troviamo con questa interfaccia qua, molto semplice, dobbiamo innanzitutto creare uno studio. Noi faremo una banalissima analisi statica, non andiamo a vedere tutto quello che ci permette di fare Inventor, facciamo semplicemente un'analisi statica, quindi qua possiamo premere ok e qua seguiamo un po' da sinistra a destra quello che ci viene dato. Lasciamo stare la tabella parametrica con la quale si potrebbe studiare e variare alcune dimensioni apposta per avere determinati sforzi applicati o determinate deformazioni. Prima cosa andiamo a segnare i materiali, allora vedete qua viene dato un generico e dobbiamo sostituirlo perché in realtà potremmo sostituirlo direttamente qua, nel senso che anche se il pezzo è generico nel nostro asieme, qua possiamo dire però nello studio me lo fai in acciaio o me lo fai in gomma o me lo fai in altri materiali. Andiamo sui vincoli e noi semplicemente vincoliamo questa piastra e questa piastra, premiamo ok, possiamo già applicare una forza o una pressione, possiamo anche applicare la gravità, allora la gravità semplicemente gli diamo una direzione del verso, chiaramente è indifferente dov'è la gravità, non è che è strettamente legata in quel punto. Andiamo a invertirla ed eccola qua applicata. L'ho messa solo per farvi vedere che volendo potremmo anche fare casistiche diverse, potremmo fare questa diviso 2 e metterle qua un'altra componente, dando una direzione che più ci aggrada qualora la gravità non fosse esattamente lungo l'asse y, ma come sappiamo tendenzialmente la gravità non viene considerata in questi casi perché i carichi applicati sono tendenzialmente maggiori della gravità stessa, quindi per adesso eliminiamola. Ok, applichiamo la prima forza, anzi applichiamo la forza, l'applichiamo qua in punta, selezioniamo il piano, in realtà potremmo mettere anche un punto e direttamente scegliere quel punto, come metterlo qua. Scegliamo, scusate, quest'asse qua, di suo va già ad applicarsi in centro. Qua andremo a sfruttare questa volta le componenti e vi dicevamo, in questo punto, che voglio mille newton. Se mi sposto qua me la fa vedere, come vedete la direzione è sbagliata, ma semplicemente mettendovi davanti un segno. Ecco qua la nostra forza applicata. Anche qua, come ho detto prima, potremmo fare componenti anche diverse della forza. Premiamo ok ed ecco la nostra forza. Il prossimo passaggio, che è forse il più delicato, è la creazione della mesh. Allora, proviamo innanzitutto su vista mesh e vediamo cosa ci fa. Beh, chiaramente, in un pezzo così piccolo, una mesh così grande ha poco senso, quindi la dovremmo cambiare. Non è sempre vero, perché comunque sono 300, sono 700, come vedete qua, sono 700 nodi, quindi non sono pochissimi, ma se il vostro pc è abbastanza prestante, ce la può fare. Chiaramente, se si parla di una seme estremamente grande, ovviamente mesh molto fini comportano elaborazioni estremamente complesse e molto lunghe, ma si fanno. Qua possiamo cambiare, in realtà, la dimensione media dell'elemento. Andiamo a farla ben più piccola. Premiamo ok. Attenzione che qua compare il fulmine e che vuol dire che dobbiamo aggiornare la mesh. Allora ci metterà qualche secondo in più. Ed ecco qua la nostra mesh realizzata. potremmo anche andare a, non era quello che volevo farvi vedere, non mi ricordo il comando, abbiate pazienza. Ah, sì, da qua, mesh locale, scusate, ha fatto sparire la mesh, lista mesh. Da qua possiamo anche andare a fare determinate mesh più fitte, perché vogliamo analizzare meglio. Allora qua, se metto qua, faccio selezione altro, come vedete mi fa vedere questa faccia, in realtà termina al bordo, e qua posso fare una mesh particolare, 0,02. Andiamo a fare così. Anche in questo caso non è automatico il refresh, ma dobbiamo fare aggiorna mesh. Mi dà un errore perché ho fatto una mesh probabilmente troppo fitta per quel punto. Andiamo quindi a modificarlo. Ecco qua, la cosa non è che vi dà, non vi dà chiaramente cos'è l'errore. Vi dice semplicemente che questa parte ha un problema. no? Quindi andiamo qua, andiamo a fare 0,5. 0,5. Vediamo se questa volta riuscirà a farla. Aspettiamo qualche istante. bello della diretta, che però non è indiretta, però di fatto è come se fosse una diretta. Vediamo se ce la fa. Premendo qua dovrebbero comparire eventuali errori. E' un buon segno che non si sia già bloccato, però quando prima avevo provato a farla c'ero riuscito al terzo tentativo senza farlo troppo impazzire. Probabilmente sto facendo una mesh molto 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 fitta. No, direi che ci sta mettendo troppo. Allora annulliamo. Annulliamo la generazione della mesh. Vabbè, forse a quel punto potevo anche lasciarla andare. Vediamo se riesco a riprendere il controllo di Inventor. Non sembra dare segni di vita. Ok, va bene. Vediamo, torniamo qua. E mettiamo 0. Vediamo se adesso è un po' più... Gagliarda la generazione della mesh. Mi sa di no. Però diamogli qualche secondo per provare. Eh, non è neanche riuscita. Allora andiamo un po' più a botta sicura. Nintendo 0.5 Vediamo se questo giro ce la facciamo. Ecco qua. Quindi diciamo che è andato a elaborare una mesh un po' più fitta per questa superficie di contatto. Vabbè, curiosità. Qua potete disattivare i vincoli e le forze nella vista. E semplicemente dopo basta premere Simula. Metteremo questa interfaccia. Questa finestra. Premiamo Esegui. Ovviamente più il pezzo è più complicato, maggiore il tempo di elaborazione. Ed ecco qua il risultato. Nella nostra piccola analisi FEM. Dove abbiamo chiaramente quelle che sono le condizioni critiche che ci aspettavamo. Appunto qua dove è applicata la forza. E qua diciamo dove si vanno a concentrare maggiormente gli sforzi. E qua dove abbiamo una certa flessione importante. Allora, di per me di solito io studio la sollecitazione di Fommises. Che qua mi dice già che il massimo è la zona rossa che è a 65,5. E poi anche lo spostamento. Scusatemi, non lo spostamento, ma la deformazione. No, scusatemi. Ecco, era proprio lo spostamento. Volevo vederlo qua. Che vi fa vedere che in punta abbiamo un movimento di 0,12 mm circa. Quindi, insomma, non mi aspetterai grandi problemi. Infatti la sollecitazione è piuttosto bassa. Si parla di 65,5 megapascal. Ovviamente, per chi usa la mesh, scusate, per chi usa il FEM sa che questi valori vanno ben interpretati. Innanzitutto si parla sempre di punti molto critici che vanno appunto interpretati, analizzati e studiati. Ecco, non fidatevi mai di questi tipi di analisi così a sprombattuto, come se fosse vero. Fatevi anche qualche calcolo su carta. Insomma, in questo caso non sarebbe neanche complicatissimo farlo su carta, ma almeno vi dà... Avete un riscontro su quello che effettivamente magari il computer potrebbe generare, se è completamente errato, creando i sforzi che magari sono talmente localizzati che non devono essere considerati così. Cos'altro posso dirvi? Vabbè, ovviamente qua possiamo anche andare a vedere il punto di maggior sforzo, oppure, se vado sullo spostamento, di maggior spostamento, che ovviamente era questo, in questo punto qua, sostanzialmente il movimento è questo. Ovviamente qua è enfatizzato, non è assolutamente in scala il movimento, ma se volessimo mantenere la stessa scala, adesso non capisco, dovrebbe farlo. Forse è qua... ah, ecco qua, reale. Se qua impostate reale, ovviamente la deformazione, come vedete, è oggettivamente piccola. Vediamo se mi lascia prendere la misura. No, non me la lascia prendere, però fidiamoci di questo valore qua. Infine vi dà anche la possibilità di generare un rapporto. Io l'ho usato perché magari, anche per ricordarmi, ho nel fascicolo tecnico della macchina, che ho comunque fatto quell'analisi FEM a memoria, almeno ce l'ho da qualche parte. proviamo a vedere cosa viene generato. In realtà lui fa una sfilza di immagini che si possono anche scegliere, tra l'altro. Mi sembra che generi... Facciamolo aprire in Google, vediamo cosa salta fuori. Ecco, vabbè, l'ha generato un file, un documento. dove vi fa vedere un po' il storyboard della vostra analisi. Non mi ricordo se alla fine trova anche delle conclusioni, no, semplicemente. Ah, divertente, vi fa anche scegliere... Non avevamo fatto mai la visualizzazione in... 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 nel browser. Di solito l'ho sempre fatta in Word, e non mi lasciava mai scegliere. Ecco, come ho fatto prima, nel rapporto si possono scegliere alcune cose, proprietà, cosa mettere dentro, e cosa mettere dentro come studi anche. Quindi si possono andare a togliere i vincoli, i contatti, se non ci interessano, o le viste, le inquadratura. Ah, ecco qua il formato. Ah, vabbè. L'RFT ti dovrebbe generare un file Word, quindi apribile con un file Word, gli altri effettivamente sono file HTML, vabbè, si copia e si incolla dentro a un Word. Ecco, come sempre, è una pillola, non ha assolutamente il significato di essere chissà quanto dettagliato, sappiate che avete questa opzione, potete tranquillamente usarla, trovandola appunto tra gli ambienti di Word, e... sì, gli ambienti di Inventor. Ormai da qualche anno è implementato in Inventor questa funzione. Direi che è tutto per questa pillola. Mi raccomando, come sempre, vi sono piaciuto, iscrivetevi al canale, suonate la campanellina, no, premete la campanellina, se volete iscrivetevi anche al canale Patreon, 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 non mi ricordo neanche come si chiama, e... vabbè, comunque trovate tutto in descrizione. Alla prossima pillola! Ciao! A presto! 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 A presto!